E' certo una situazione destinata a peggiorare ulteriormente in queste ore nel fine settimana è quella legata proprio ai detriti, alla sporcizia del lago di Como. Qui siamo proprio davanti a Piazza Cavour, quindi è uno degli angoli più particolari dove ci sono tanti turisti anche che passano. E in queste ore la situazione è questa, molti molti detriti che galleggiano e il tutto ovviamente, lo ricordiamo ancora una volta, aggravato anche dall'assenza del battello il battello spazzino che è proprio lì davanti a noi, davanti alla diga forania è colato a picco qualche settimana fa. Il battello quindi che non è in funzione e lo spettacolo, certo, non è proprio dei migliori qui siamo vicino proprio alla biglietteria. della navigazione, eccolo qua. Tronchi, detriti, tutto ammassato a ridosso dell'imbarcazione.